Una delle sorprese di quest'anno è certamente Fabrizio Cacciatore, difensore del Verona, in comproprietà con la Sampdoria. Già l'edifensivo, il difensore Claccio 86 nasce come terzino destro ed esplode lo scorso anno sempre con il Verona in segno e minuto, giocando in tutti i luoghi tra la difesa e il centro campo. Grazie per la visione! Grazie a tutti!